Adesso parliamo di, tornando diciamo al nostro argomento relativo alla proprietà e quindi diretti reali assoluti definiamo quelle che sono le caratteristiche della proprietà e quelle che sono anche, insomma, percorriamo alcune cose relative appunto ai diritti assoluti e anche alle tipologie di proprietà, diciamo, perché abbiamo proprietà anche provinciale abbiamo accennato, ma abbiamo anche la comproprietà quindi, con riguardo ai frutti, abbiamo appena finito diciamo di fare la classificazione appunto dei beni ci siamo dimenticati di dire comunque c'è un passo importante di Caio che definisce appunto i frutti e questa è contenuta, credo, nelle res quotidiane questo passo dovrebbe essere di, dovrebbe stare per digesto 22.1.28 ci dice appunto Caio che i frutti sono comunque appunto naturali cioè più che i frutti sono naturali parla dei frutti, come parla dei frutti all'epoca c'era comunque anche tra l'altro un'altra cosa importante che non abbiamo detto cogliamo l'occasione adesso di farlo comunque questo è un video comunque che tu riporta caratteristiche generali sulla proprietà quindi diciamo trattacene aspetti comunque generici per cui anche se inseriamo un'ulteriore considerazione sui frutti comunque male non fa e pertanto dicevamo anche perché comunque anche sui frutti si ha la proprietà diciamo poi evidenzano il modo di acquisto comunque della proprietà a titolo penso originario almeno con riguardo i frutti naturali comunque diciamo passo di Caio con tutto nel res quotidiane in pratica ci dice che i frutti sono non solo diciamo il parto il frutto appunto il parto della madre ma anche ad esempio con riguardo ad esempio la pecore lui fa l'esempio della pecore si dice non solo il parto della madre ma anche la lana quindi con riguardo alla pecore anche il latte e quindi è detto come appunto una cosa madre cioè una cosa madre in pratica sotto il profilo anche dei frutti naturali può per luogo diciamo ha dei frutti non solo con riguardo appunto al parto della madre ma anche la stessa lana è un frutto ad esempio dalla pecore rispetto alla cosa madre nel momento in cui viene tagliato e venduto è venduta la lana in pratica la cosa si stacca dalla pecora dalla cosa madre e pertanto è un frutto separato che può essere a questo punto diciamo trovare la sua utilizzazione economica e quindi diciamo produce reddito viceversa frutti civili dicevamo quindi la differenza tra frutti naturali e frutti civili sono i frutti naturali in pratica sono quelli diciamo dove il reddito proviene dalla cosa madre quindi dal frutto che si separa dalla cosa madre mentre invece è della sua utilizzazione pertanto economica da parte del proprietario di colui che ne diviene il proprietario mentre invece nel caso dei frutti civili diciamo che il reddito da parte della cosa proviene appunto è il reddito che proviene dalla cosa rispetto alla sua utilizzazione economica però quindi ad esempio un canone di locazione per una casa comunque tornando invece proprio al discorso specifico della proprietà delle sue caratteristiche in parte l'abbiamo già accennata diciamo da cosa derivava la proprietà diciamo da cosa l'ha imparato delle origini del concetto di proprietà adesso parliamo delle caratteristiche delle tipologie quindi percorrendo le origini le origini della proprietà in pratica abbiamo detto appunto alcuni le fanno diciamo risalire a un concetto di mancipium che dovrebbe però essere più specificamente riferito diciamo al rapporto di proprietà appunto dell'uomo di un soggetto appunto con la cosa un mancipium che pertanto spiegava un attimo anche sotto profilo terminologico la denominazione poi di quel negozio solenne e formale che era l'amancipatium che era appunto uno dei due negozi solenni e formali con la quale si trasferiva la proprietà negozi diciamo con effetti traslativi della proprietà erano tre in realtà anche la tradizia cioè la semplice consegna finalizzata a trasferire la proprietà però abbiamo visto come ad esempio nel caso del resmancipi regime comunque giuridico differenziato faceva sì che comunque questi beni non potessero essere trasferiti con con la tradizia ma solo appunto con mancipazio ognù recessio e però abbiamo anche visto come in un certo momento diciamo la distinzione tra resmancipi e resmancipi vende meno vende un po' meno e pertanto per il tuo ora comunque poteva concedere ad esempio come nel caso appunto delle formule fictice come l'azio pubbliciana per rivendicare comunque la cosa anche se nei fatti non era trascorso ad esempio lo sucapione quindi magari quando lo sucapione appunto non agiva come nel caso della resmancipi oppure magari poteva anche concedere un eccezio vendita e tradita nel caso invece del convenuto comunque questo è un po' diciamo un approfondimento tornando invece alle caratteristiche generali dicevamo innanzitutto con riguardo alle origini ecco questo mancipium poi invece si è trasformato nel in un potere che diciamo più che essere identificativo di un diritto di proprietà diciamo era un potere caratterizzante il pater familias rispetto appunto anche alle potestà nei confronti di tutti i soggetti della famiglia lui sottoposti e pertanto anche e soprattutto diciamo nell'ottica comunque delle persone libere sottoposte in causa a mancipi mentre invece un certo di proprietà si è spostato diciamo su quello di Dominus Axiure Quirizium in quanto appunto il Dominus cioè appunto pater familias che aveva amministrazione comunque su tutti i beni e su tutto il patrimonio della famiglia aveva appunto Dominium Axiure Quirizium sulle cose sulle sue cose Dominium pertanto basato sul diritto quiritare sul diritto dei quiriti pertanto su quel nucleo più antico appunto loius civile che costituiva appunto il cosiddetto ius quiritium tuttavia ciò che non abbiamo detto è che in realtà non è che comunque ci fosse una nozione di proprietà diciamo in vigore appunto tra i romani gli antichi romani anche perché comunque questo l'abbiamo già detto più riprese i romani disdegnavano diciamo quel detto omni definizio pericolosa est cioè disdegnavano un attimino le definizioni perché erano troppo vincolanti rispetto diciamo a delle realtà invece sempre in mutamento anche quello del punto giuridico e tuttavia questo invece è già diciamo un argomento nuovo che non abbiamo ancora trattato per avviarci appunto a trattare quelle che sono le caratteristiche della proprietà e poi le tipologie in pratica c'è però una definizione cioè qualcosa che di più si avvicinava alla definizione che era una frase pronunciata da Cicerone è contenuta credo nelle loro azioni credo una frase comunque di Cicerone contenuta nel De Officis in particolare ecco forse spero di ricordarlo da adesso in poi diciamo nel 2.78 c'è una frase comunque di Cicerone che si avvicina un pochino a ciò che potremmo ritenere possa essere una nozione di proprietà così come potrebbe essersi formata nell'ambito appunto del diritto romano in pratica questa affermazione di Cicerone contenuta nel De Officis era affermava che proprietà diciamo che appunto compito comunque di una civitas quindi di una città era anche appunto proprio quello di garantire liberamente una tutela diciamo a prestare una tutela all'esercizio appunto al libero esercizio comunque prontare tutela insomma ai propri beni diciamo ai beni posseduti appunto dai cittadini senza rischi né pericoli quindi e quindi in tutta libertà questa affermazione da Patrice Cicerone appunto riprende una sorta di concetto di proprietà come qualcosa che deve essere tutelato esercitato liberamente quindi tutelato rispetto a qualunque intromissione da parte comunque dei terzi diciamo di sotto un aspetto diciamo di tutelato sotto un aspetto diciamo erga omnes quindi nei confronti di tutti questo riassume un po' il carattere anche di assolutezza appunto del diritto reale per eccellenza che è il diritto di proprietà in pratica appunto compito di una cività garantire appunto l'esercizio in tutta libertà l'esercizio appunto di proprietà nei confronti appunto dei propri beni prestando quelle che sono le tutele per evitare appunto ogni rischio di in pratica di intromissione da parte di chiunque altro cioè di turbativa esterna quindi sostanzialmente diciamo si riconduce ad un concetto appunto di proprietà più moderne quello è quello adottato appunto da società più moderne che è quello appunto di un esercizio di un esercizio appunto il diritto di proprietà libero e basato appunto su un libero godimento e l'utilizzo illimitato appunto dell'esercizio appunto adesso mi sto un po' incasinando però non rifarò questo video perché comunque se no mi smetto tutta la vita facciamo a finire gli argomenti che devo finire pertanto siete presenti allora reset un attimo rewind dal momento in cui ho nominato cicerone allora i romani non avevano una definizione precisa di proprietà perché ogni definizione pericolosa est cioè intendeva che le definizioni fossero comunque limitative limitanti scusate perché vincolavano insomma eccessivamente rispetto a realtà immutamento e pertanto anche realtà giuridiche tuttavia una definizione che può in qualche modo da somigliare ad una definizione anche ad una nozione comunque moderna quindi si avvicina ad una nozione più magari di qualunque altra tipologia di frammento è quella appunto di cicerone contenuta nel De Officis che afferma che il compito di una civiltà è proprio quello di tutelare i cittadini rispetto appunto ai propri beni tutelare diciamo i beni che sono dei cittadini quindi liberamente senza rischi e quindi questo diciamo si avvicina al concetto di proprietà anche magari più moderno che è espresso in termini di libero godimento libero ed illimitato godimento appunto sulla cosa propria ecco quindi con questo appunto ci avviciniamo quasi ad un concetto appunto di proprietà e al contempo esiste diciamo questo rimanda al concetto comunque di assolutezza del diritto reale anche appunto il diritto per eccellenza diciamo il diritto di proprietà un diritto appunto reale e assoluto in quanto può essere fatto re nei confronti di tutti cioè dove la tutela viene prestata a parte l'ordinamento giuridico rispetto all'esercizio del diritto di proprietà proprio per evitare cioè nei confronti di tutti proprio per evitare che qualcuno venga turbato nel libero godimento nel libero e limitato godimento sul proprio bene tuttavia diciamo che in ogni caso anche sotto l'aspetto diciamo della normativa quindi del diritto oggettivo non è che la proprietà appunto mancava una definizione quindi non era espressa in termini positivi il concetto di proprietà però in un certo senso era espresso in termini negativi nel senso dei limiti che eventualmente l'ordinamento giuridico disponeva rispetto all'esercizio quindi alla libertà di esercizio sui di proprietà diciamo sui dell'individuo rispetto appunto alla cosa propria quindi al godimento che poteva avere sulla cosa propria potevano esserci dei limiti come oggi giorno ce ne sono diciamo sempre espressi sempre giustificati da comunque interessi di carattere generale come ad esempio avviene nel caso del pubblico esproprio tenete presente quando si espropia un bene per ragioni di pubblica utilità chiaramente questo è un limite all'esercizio chiaramente della proprietà però è giustificato innanzitutto perché è disposto all'ordinamento giuridico e secondo luogo perché è disposto per ragioni comunque di interesse di carattere generale quindi gli unici limiti che possono diciamo che oggigiorno è anche la proprietà viene esercitata in modo limitato sulla cosa propria quindi ognuno può disporre e godere della cosa propria in maniera limitata però eventuali limiti possono eventualmente giungere quindi comprimere un attimino diciamo proprio il diritto di proprietà per finalità comunque di interesse generale e quindi disposta all'ordinamento giuridico all'epoca del diritto romano il discorso non mutava c'era l'elasticità del dominio che era una caratteristica della proprietà anche all'epoca del diritto romano perché ad esempio la proprietà poteva diciamo l'esercizio del diritto di proprietà poteva essere compresso e quando noi diciamo diritto comunque ricordatevi sempre che i romani parlavano in termini di azione non di diritti comunque la compressione appunto del diritto di proprietà sotto l'aspetto appunto dell'elasticità del dominio quindi del dominium dominium da homus appunto l'uomo della casa quindi il potere principale del pater familius diciamo limiti potevano intervenire anche per effetto di eventuali diritti altrui quindi diciamo si incontrava una limitazione all'esercizio del proprio diritto di proprietà anche rispetto diciamo al rapporto di vicinato in un certo senso a eventuali diritti che altri soggetti potrebbero vantare quindi un conto era la turbattia da parte terzi sulla quale si aveva comunque la tutela ergomnes rispetto a diritti di proprietà un conto era il fatto che l'elasticità del dominio quindi il dominium ex quidizio su una cosa potesse essere compresso non azzerato ma limitato quindi compresso dall'esercizio da parte di un altro cives di un corrispondente diritto ad esempio reale di godimento scosa altrui come la servitù di passaggio quindi io ho proprietà su un fondo però diciamo una lieve compressione del diritto di proprietà nella misura in cui sullo stesso grava una servitù di passaggio a favore di un altro soggetto allora in quel caso sono obbligatoriamente ad esempio non potrò mettere normalmente avrei potuto mettere tutti i cancelli che volevo non potrò mettere un cancello perché questo limita poi il passaggio di chi ha diritto di passare pertanto diciamo c'è una da parte di un altro soggetto e però si parla anche di elasticità del dominio perché comunque ciò che si comprime per effetto di quel diritto reale di godimento da parte di un altro soggetto è suscettibile anche di decomprimersi e tornare diciamo ai livelli di esercizio precedenti del diritto di proprietà perché servitù di passaggio può venire meno a un certo punto per accordi o per qualche altra ragione o perché magari muore direttamente col calare servitù di passaggio e pertanto elasticità poi vedete caratterizza la decompressione del diritto di proprietà ai livelli comunque di esercizio limitato che poteva avere magari in precedenza però con questo non abbiamo esaurito le argomentazioni relative alle caratteristiche della proprietà quindi abbiamo già però direi che prima di illustrare le caratteristiche generali della proprietà potremmo visto che stavamo parlando comunque del passo di Cicerone quindi della distinzione in un certo senso anche tra diritti reali e assoluti fare riferimento anche al passo di Gaio contenuto di gesto ma il numero diciamo 4.2.3 e quel passo definisce proprio invece la differenza tra diritti reali e diritti assoluti ci dice Gaio anche in questo caso sempre Gaio il buon vecchio Gaio ci dice il giurista comunque del secondo secolo dopo Cristo ci dice che diciamo che le azioni distingue tra azioni personali e azioni reali e ci dice che le azioni personali sono quelle che vengono appunto promosse in confronto di un soggetto quando diciamo ci compete appunto l'obbligarlo quando ci compete appunto una determinata prestazione da parte sua quindi nel caso appunto di diritti personali appunto la tutela diciamo l'azione viene rivolta nei confronti della persona si parla di un'azione in persona la tutela viene approntata rispetto alla relatività di un diritto quindi la tutela di un diritto relativo quindi nei confronti appunto alla persona in genere appunto è un diritto di credito però può appunto anche intervenire una res per esempio però non come oggetto diciamo non rispetto al rapporto che si crea invece cosa che invece non avviene nel caso delle azioni appunto in REM e appunto Poggaio ci dice le azioni invece reali quindi le azioni in REM invece sono quelle che vengono promosse appunto ad esempio per recuperare la cosa per recuperare la cosa rispetto appunto al rapporto che si crea tra le parti vedete che è differente evidenze questo l'avevamo già visto la differenza tra un'azione in REM e un'azione in persona però è chiaro che l'azione in REM invece è un'azione che sia diciamo per il recupero della cosa quindi per la tutela di un diritto assoluto ergo omnes che può essere fatto valere nei confronti di tutti quindi non è che si intenta l'azione nei confronti di un soggetto determinato si intenta l'azione per il recupero della cosa e la stessa cosa può fare l'altro soggetto convenuto che magari appunto nel caso delle legis azioni era chiamato a fare una contravindicazio quindi una dichiarazione esattamente identica a quella comunque dell'attore e pertanto appunto questo evidenzia come la natura anche del diritto di proprietà che è appunto un diritto assoluto che può essere fatto valere nei confronti di tutti gli argomnes però tornando diciamo alle caratteristiche della proprietà le caratteristiche della proprietà avevamo detto una l'abbiamo già diciamo evidenziata era l'elasticità del dominio però esistono anche altre tre caratteristiche principali che possiamo riscontrare rispetto al diritto di proprietà così come diciamo poter non diciamo vigente però diciamo nel senso letterale non nel senso giuridico così come poter essere vigente insomma tra o considerato comunque nell'ambito del diritto romano il diritto di proprietà aveva quindi quattro caratteristiche quella dell'elasticità del dominio l'abbiamo evidenziata aveva anche la caratteristica della perpetuità della dell'imitatezza diciamo in verticale e anche della trasmissibilità quindi prima caratteristica senza ombra di dubbio è il fatto di essere trasmissibile diritto di crea diciamo scusa diritto di proprietà è un diritto reale un diritto assoluto un diritto reale perché riguarda diciamo il rapporto che si ha sulla cosa l'utilità che che deriva direttamente dalla cosa cioè l'esercizio è il diritto di proprietà in pratica riguarda appunto l'utilità che si ricava dalla cosa quindi diciamo appunto un diritto reale perché riguarda la cosa il rapporto che l'individuo quindi il titolare del diritto stesso ha sulla cosa ma è un diritto assoluto perché può essere fatto valere nei confronti di tutti quindi diciamo che è configurato in negativo nel senso che in un certo senso nel senso che appunto può essere fatto valere nei confronti di tutti in quanto nessuno deve turbare l'esercizio del diritto di proprietà viceversa il diritto appunto l'azione persona si rivolge solo nei confronti di un soggetto determinato mentre è un diritto quindi che è trasmissibile quindi può essere diciamo trasferito ad un altro soggetto quindi con la vendita ad esempio trasferisco ad un altro soggetto il diritto di proprietà quindi è trasmissibile è trasmissibile ed è come dicevamo perpetuo perpetuo perché non è che l'ordinamento giuridico configura dei limiti temporali all'esercizio del diritto di proprietà quindi finché uno non decide di alienare però a sua discrezione in pratica avrà sempre il diritto di proprietà su quella cosa ditta naturale durante e poi la stessa sarà comunque trasferita con tutti i suoi rapporti giuridici e patrimoniali al successore eventualmente attraverso un legato invece comunque alienata in un certo senso seguendo un principio di liquidazione mentre dicevamo è anche illimitata sul piano verticale quindi al contrario invece questa è una caratteristica esclusiva che la proprietà aveva nel diritto umano perché oggi non è più così diciamo oggi ci sono tante realtà comunque diversificate per cui quando io compro un terreno non so bene nemmeno cosa ho sotto i piedi e cosa mi volerà sopra la testa e pertanto diciamo che oggigiorno la proprietà viene limitata all'appezzamento di terreno o e oltretutto diciamo viene anche a considerarsi diciamo ad esempio il piano quindi può anche essere che appunto all'epoca diciamo c'è la proprietà nel diritto umano era limitata in senso verticale nel senso che se si aveva un appezzamento di terreno se si era proprietario di un fondo si era proprietario di tutto ciò che era sotto il fondo e di tutto ciò che era sopra il fondo quindi fin sopra il cielo e fin sotto la terra oggi non è più così perché comunque non solo non so che cos'ho sotto i piedi perché mi può passare sotto una metropolitana e certamente non è un esempio io qui abito cioè comunque la fermata della metropolitana sotto casa e sotto passa comunque hanno costruito appunto i tunnel sono proprietario del mio appartamento ma la proprietà oggi non è limitata in senso verticale nel senso che non è che sono proprietario anche della metropolitana così come non sono proprietario dei cinque appartamenti che sono all'ultimo piano praticamente dei cinque appartamenti che stanno appunto al primo secondo terzo terzo piano e pertanto non è limitata in senso verticale mentre invece all'epoca del diritto romano sì quindi se si aveva una casa tutti i piani poi chiaramente c'erano delle considerazioni che si possono fare sul piano del diritto di superficie ma le vedremo dopo dopodiché questo per quanto riguarda le caratteristiche della proprietà per il diritto romano altra cosa a dire diciamo invece sulle tipologie di proprietà oppure potremmo anche fare un video se parlato per ogni volta di questo adesso abbiamo fatto un argomento diciamo un video generale su argomenti relativi alla proprietà oppure possiamo già introdurre tipologie di proprietà poi magari più scientificamente facciamo due video uno per la caratteristica e uno per la tipologia quindi e manteniamo tutte le argomentazioni relative ai frammenti e ai concetti più generali riconducibili anche alle origini e alla nozione di proprietà quindi dicevamo tipologie di proprietà invece sono in pratica non solo la proprietà diciamo c'è anche la proprietà provinciale e la comproprietà e quindi con riguardo la proprietà provinciale alcuni tratti essenziali caratteristici ne abbiamo potremmo già dedurre rispetto a cose che abbiamo detto in precedenza ovvero in pratica la proprietà provinciale era sostanzialmente una res pubblica sotto l'aspetto alla proprietà e quindi su diciamo anche ad esempio fondi o comunque case quindi immobili diciamo sulla proprietà provinciale innanzitutto in pratica si poteva avere solo quella sostanzialmente possiamo chiamare una dicotomia che è tradotta nella frase usufructus vel possessus diciamo in pratica appunto si poteva avere solo o l'usufrutto o il possesso e oltretutto era subordinato in genere da il pagamento di un tributo che in pratica otteneva una concessione appunto per l'usufrutto o il possesso su quella proprietà provinciale e pertanto in un caso si chiamava tributum in un caso appunto dell'impero per le province si chiamava qualcos'altro che adesso non mi viene in mente comunque una denominazione e pertanto comunque era sempre un tributo quindi si pagava un tributo mentre con riguardo alla comproprietà la comproprietà diciamo che c'erano anche tre tipologie cioè potrebbe essere il caso quindi quando si parla di proprietà in genere per adesso ci siamo sempre riferiti alla situazione comunque del rapporto del soggetto con la cosa quindi del singolo cittadino però chiaramente la proprietà poteva anche evidenziare una situazione di comproprietà quindi una situazione di comproprietà ovvero di più proprietare per uno stesso bene e questa però potrebbe essere di differenti tipologie perché ad esempio c'era la proprietà comunque necessaria c'era la comproprietà necessaria oppure potrebbe essere una tipologia di comproprietà invece volontaria comproprietà volontaria ad esempio se due persone si diciamo univano nel proprio patrimonio per acquistare un immobile erano comproprietari la comproprietà volontaria in questo caso evidenziava delle quote diciamo erano entrambi comproprietari diciamo per quote identiche magari oppure rispetto a quanto era stata la loro attribuzione patrimoniale mentre la comproprietà necessaria è quella ad esempio degli eredi quella è una comproprietà che oltretutto sono anche denominati eredi suiet necessari ma perché per loro agisce necessario erano eredi necessari in quanto agiva diciamo in una modalità automatica l'acquisto comunque dell'eredità e quindi questo determinava anche la comproprietà sulla massa ereditaria e anche appunto il fatto che comunque ci si trovava in presenza di una comproprietà necessaria in quanto non era basata su una sul consenso comunque degli eredi ma su diciamo su dei meccanismi appunto giuridici di successione tuttavia anche in questo caso come dicevamo non avevamo già avuto modo di constatare la comproprietà era per quote identiche a meno che il testatore non avesse specificato altrimenti e comunque doveva specificare per evitare che il testamento fosse invalido ex recerta doveva comunque individuare diciamo stabilire le quote in via di percentuale quindi dire due terzi la metà e così via e non anche diciamo fare un'attribuzione basata appunto specifica sulle cose perché se no il testamento era invalido però abbiamo anche un'altra tipologia di comproprietà e la comproprietà invece in divisa quella che viene denominata in un termine che adesso forse mi sfugge non mi ricordo più in pratica ah ecco consortium ercto non cito che era invece appunto una tipologia di comproprietà che in pratica era indivisa nel senso che tutti i comproprietari non erano comproprietari per quote erano comproprietari sull'intero e quindi era innanzitutto una tipologia di comproprietà questa consortium ercto non cito che non venne mai meno cioè non fu mai abrogata e al contempo fu anche comunque non era neanche molto utilizzata perché comunque il fatto di essere comproprietari non per quote quindi eventualmente avere la possibilità di procedere a una divisione repentina delle quote stesse con un'azione divisoria ad esempio l'acto comune dividundo ma il fatto di essere diciamo comproprietari sulla base del consortium ercto non cito significava essere comproprietari sull'intero e quindi avere solo un diritto di veto quindi di poter diciamo votare se ad esempio alienare o meno il bene quindi se c'è il diritto di veto sull'eventuale alienazione quindi dovrebbero essere tutti d'accordo sull'eventuale alienazione ma diciamo non essendo comproprietari per quote differenti non potrebbero neanche dividirsi il bene e pertanto questo poteva anche essere diciamo originare con maggiore facilità delle controverse e pertanto era meno utilizzato però non fu mai obbligato adesso invece parliamo dei modi di acquisto della proprietà ma non prima di aver fatto dei video comunque più sintetici e sulle caratteristiche della proprietà e sulle tipologie